C'è tutto il patrimento, qui sono visto che c'entriamo. Viagliere, si potrera. Viagliere. 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 ... Le taïsou est une alternative aux nombreux sports de remise en forme, che permette di migliorare il potenziale fisico della persona che va venire lo praticare, e questo quel che sia il suo agee. C'è una approccia douce dei arti martiei, con degli esercizi variati, e che la maggioranza si fa un binone, che regroupe diversi aspetti. Il y a un entretien cardiorespiratoire, che permette di migliorare l'endurance, di rinforzare i muscoli profondi per una migliore posture, che permette di migliorare l'equilibrio e le capacità psicomotrice, tels che la coordinazione generale dei membri, ma permette di lavorare l'assouplissement del corpo e la relaxazione. Il Thaiso è anche un portaggio con gli altri, perché gli esercizi se fanno a due, e bisogna di sentire l'individu che abbiamo in fronte, per poter lavorare correctamente. Non è necessario di aver già praticato un sport prima di mettere al Thaiso. Voi poter avere solo un consiglio di ricominciare o di come un attività, un loisir che sia a la part del parto di entretien fisico e della cultura. Il Thaiso hamane con gli esercizi le valore sui in art marti e soprattutto del judo. Si si vede in un dojo, su un tatami e in il rispetto di tutto questo univers, con sempre un stato di esprimazione di entretien e di prospettione mutuzione. Quindi, il y a un apport culturel che non si tropevo in tutti gli altri sports. Il Thaiso è un universo che vi consiglio di trovare nella scena di questo club di judo di Colomieto con Christophe, il professeur. Questo si passe le mercredi a partir di 20h30 e si s'esternisce in funzione dei papotaggi e dell'ambiente particolare a questo club, molto familiare e molto accueillante.